Il campanile di Santa Francesca Romana, in stile romanico, invece la facciata all'interno della chiesa era barocca. Stiamo all'interno dei fori romani, vedete i visitatori del foro, in fondo si vede il Campidoglio, il comune di Bari alle spalle, fra poco lo visiteremo, state in attesa, non vi perdete d'animo. Questa è la Basilica di Massenzio che si vede quando noi vediamo la Via Crucis per il Papa il Venerdì Santo. Carissimi, alla prossima. Vi saluto da Santa Francesca, una preghiera particolare per tutti.